Oggi c'è stato qui a Roma un corso di implantologia protesica peniena. Abbiamo avuto quattro casi differenti tra di loro, credo che siano stati tutti interessanti. I discenti, il dottor Oliverio, il dottor Peinato, il dottor Safestas, con Francisco Piris della Coloplast che ci ha supportato in sala operatoria come specialist per effettuare la preparazione del device protesico, si sono lavati al tavolo operatorio e hanno potuto vedere la tecnica mini-invasiva. È con grande piacere che consegno un simbolico attestato della giornata di oggi. Alessandro, prego, François, Mucho Placer e Nikos. Speriamo di rivederli presto qui in sala operatoria con noi, speriamo di vederci a Madrid con François e Alessandro e a Corfu con Nico. Grazie ancora, un abbraccio e ci vediamo alla prossima e grazie alla Coloplast che ci ha supportato in questo progetto di formazione.